Quello che dovrebbe diventare il futuro polo bibliotecario di Bolzano, le ex scuole pascoli di Via Longon, trasformate in un dormitorio. La notizia è apparsa stamani sulle pagine del Corriere dell'Alto Adige, eppure noi abbiamo deciso di andare a verificare. La porta d'ingresso, che secondo l'articolo era sempre aperta, la troviamo chiusa, ma basta poco per entrare nella struttura. Iniziamo il nostro giro e in breve troviamo le tracce che ci mostrano come all'interno dell'ex scuola il movimento non sia mai finito. Saliamo qualche piano e troviamo il primo materasso. Il proprietario in realtà c'è, chiuso a chiave dentro un bagno presumibilmente terrorizzato. Proviamo a scambiare qualche parola, ma non riceviamo risposta. Il nostro giro prosegue, scendiamo all'ingresso principale e ci infiliamo in un altro corridoio. Tante le aule vuote, ma alla fine, aprendo una porta, troviamo un vero e proprio appartamento. Bagno, cucina, stanza e soggiorno. Non abbiamo idea di chi vive all'interno delle ex scuole pascoli. Quel che è certo è che ancora una volta, complici tempi biblici delle amministrazioni che dovrebbero occuparsene, è normale certe strutture finiscano per diventare dormitori e rifugi per senza tetto e disperati. Bolzano, vi presentiamo. Il polo bibliotecario.